Ciao a tutti, finalmente ho anche una pagina youtube, a dire il vero ce l'avevo già la pagina youtube però sono sempre stato titubante e restivo a pubblicizzarla perché pensavo che magari i miei video non facessero ridere però poi ci ho pensato di nuovo e ho detto ma chi se ne frega se non fanno ridere, fanno ridere me sono io che mi diverto in primis a fare i video, mi diverto tantissimo, anche in questo momento mi sto divertendo moltissimo cosa credete? quindi ho la mia pagina youtube, la potete trovare digitando il mio nome Roberto Dell'Ara oppure anche Dell'Arissimo, io l'ho chiamato anche così, tanto per... ad ogni modo se non vi fanno ridere i miei video magari vi fanno cagare, e beh in questo caso io sono contento comunque perché ho aiutato una persona stitica ad andare al bagno e a farlo risparmiare, ha risparmiato infatti i soldi della purga, è una soddisfazione insomma, tu caro stitico guardi il mio video e tac, ti liberi completamente oppure magari semplicemente vi fanno sboccare, anche questa per me è una soddisfazione perché magari siete andati a quelle feste lunghissime tipo battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, divorzi dove ci si abbuffa, si mangia tantissimo fino a scoppiare, si bevono litri, litri e litri di vino grappe, migliaia di bottiglie insomma, e non ci si regge più in piedi alla fine ci si sente un pochino tantissimo pesanti e guardate un mio video e finalmente sboccatevi, sentirete subito liberi è una grossissima soddisfazione per me perché vi ho aiutato comunque quindi allora io vi aspetto sulla mia pagina youtube se vi fa piacere ci mancherebbe nulla, è obbligatorio se vi fa piacere andare, vi iscrivete, cliccate mi piace se vi è servito il mio video commentate, non è necessario un commento positivo, potrebbe essere anche negativo insomma, ognuno commenti se vuole quello che vuole vabbè, spero di essere stato convincente o perlomeno compareggiante, perché con perdente mi fa girare un po' le balle vabbè, dopo questa cagata vi saluto grazie mille ciao vi aspetto ciao 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 ciao